A Novara, quartiere sacro cuore, Artecasa propone in vendita questa villa singola di grandi dimensioni, composta da due unità abitative. La principale si sviluppa su tre livelli. Al primo troviamo l'ingresso con il guardaroba, un grande salotto, il soggiorno con camino, una cucina abitabile con terrazzo, quattro camere, due bagni e un balcone. Al primo piano un ampio locale open space con vista sul salotto sottostante, uno studio, un bagno, un ampio solarium e un sottotetto utilizzato come locale deposito. Al piano terra altri due locali, lavanderia, bagnetto, box e cantina. Per tutte le informazioni anche sul secondo appartamento lo staff Artecasa Immobiliare è sempre a vostra disposizione. Artecasa, l'arte di vendere case.